Anticipazione una vita. Venerdì 18 giugno 2021. Julio attende che Bellita vada via poi fa una telefonata misteriosa. Il ragazzo continua a guardarsi intorno come se volesse assicurarsi di non essere ascoltato da nessuno e di conseguenza è chiaro che stia nascondendo qualcosa. Marzia con il cavallo che le ha dato Santiago cerca disperatamente di raggiungere il luogo delle nozze di Felipe. La ragazza è convinta che l'avvocato l'ascolterà e che eviterà di sposarsi con Enoveva. Dopo diverso tempo Marzia raggiunge Acasias ma ormai è troppo tardi. Enoveva e Felipe si sono già sposati. Marzia rimasta traumatizzata da quello che ha visto ha uno svenimento molto serio. Intanto tutti gli abitanti del quartiere commentano con tanto entusiasmo i numerosi pettegolezzi delle ultime ore. Il figlio di Lolita è venuto al mondo ma Ite è stata arrestata e Enoveva e Felipe si sono sposati davanti agli occhi attoniti di Marzia che si è sentita male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.